Salve, oggi vi spiego come creare un detonatore con una scatola di qualsiasi genere, una leva, una lampadina e un tasto. Ho collegato tutto in modo da, azionando la leva accendo la luce e premendo il tasto azionerò quest'altra luce. Come potete vedere, ho montato tutto usando un semplice modo, collegando il primo cavo, l'ho collegato a un filo della lampadina, come potete vedere, un filo della lampadina e poi fuori. Il secondo cavo, invece, entra dentro alla leva, dopodiché passa all'altro filo della lampadina, poi passa al tasto e dal tasto esce fuori. E' un modo molto semplice. E come potete vedere, in questo modo, azionando la leva, aziono la prima luce e con il tasto aziono la seconda luce. In questo modo, qui, al posto della luce, potrete montare qualsiasi altra cosa, petardi, di vario genere, e l'azionerete con un semplice click. Grazie a tutti e alla prossima.